Musica Questa Masterclass nasce grazie ai fondi del PNRR, la mia scuola è uno dei poli formativi e ha dato la possibilità a un buon numero di docenti e dirigenti scolastici di poter approfondire il rapporto fra le STEM, perché l'evento di Cagliari alle STEM è dedicato, ma anche i suoi rapporti con quelle che normalmente vengono chiamate discipline umanistiche. Credo che sia stato un bellissimo momento di confronto e di alta qualità dei relatori e anche degli interventi. Musica Questa Masterclass è stata veramente fruttuosa perché ha rimesso praticamente in pista le vere questioni che attengono alla formazione. Tecne e Paideia sono state coniugate in maniera egregia dai relatori e ci hanno praticamente restituito le basi del nostro agire didattico, anche mutuato tramite le attività che si utilizzano attraverso i media. Musica Abbiamo cercato di far vedere come le STEM acquistino valore anche dal punto di vista didattico e formativo attraverso l'interazione concettuale con le discipline umanistiche e come quindi sia necessario il passaggio dal concetto di STEM al concetto di STEAM in cui non soltanto l'arte ma la filosofia, la letteratura e tutto l'insieme delle discipline tradizionalmente definite umanistiche possano dare valore aggiunto a quelle scientifiche. E ne abbiamo tratto insieme ai partecipanti al corso l'idea che soltanto una didattica orientata su uno stretto tipo di collaborazione tra questi due archi disciplinari tradizionalmente separati può veramente farci capire come deve essere la scuola del futuro e aiutarci a realizzarla. Musica